Salve ragazzi ed eccoci ad un nuovo video. Mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite e sui nuovi video, le nuove recensioni di questo canale. Ma prima di cominciare con il video, è vero e proprio come sempre, sigla! Bene, oggi ho deciso di parlarvi di un film che ho visto in realtà al day one, quando è uscito effettivamente al cinema, ma di cui ho aspettato un momento per pubblicarlo appunto sul canale, per girarlo e montarlo. Infatti il video uscirà penso il giorno in cui lo sto effettivamente girando, ovvero venerdì, e sto parlando naturalmente, ma ne avrete capito dal titolo qua sotto, di Animali Fantastici, i segreti di Silente. Il terzo capitolo della saga Animali Fantastici, che a quanto pare dovrebbe essere di 5 film se non sbaglio e se non cambiano i piani alla Warner Brothers, ed è diretto anch'esso, come anche gli ultimi capitoli, ovvero gli ultimi 4 film della saga di Harry Potter, diretti da appunto David Yates. Regista più che altro conosciuto proprio per il franchise di Harry Potter, del Wizarding World, perché diciamo che è conosciuto in più per aver preso in mano le retini della saga del famosissimo maghetto Harry Potter, diciamo nella versione sicuramente più adulta, quindi dal quinto film, mi pare dall'Ordine della Finice, passando poi per il film Il Principe Mezzosangue e poi Harry Potter e I Doni della Morte parte 1 e parte 2, e poi è stata affidata in seguito anche la gestione dell'intero franchise a livello di regia di Animali Fantastici. Partendo, mi pare, nel 2016 con Animali Fantastici e Dove Trovarli, un film che personalmente reputo carino. Niente di che, un inizio diciamo particolare per una saga, visto che portava in scena, fin dal titolo, un qualcosa che poi non viene più in realtà esplorato. O meglio, in questo terzo film si prova a tornare un po' sui propri passi, ma adesso vedremo che non è andata proprio secondo i piani, almeno secondo me. Il primo film, Animali Fantastici e Dove Trovarli, vedeva protagonista Newt Scamander, vedeva protagoniste le creature fantastiche che danno proprio il titolo al film. Quel Animali Fantastici che, via via, nei due sequel, si è fatta sempre più piccolina lì in alto e ha preso spazio in realtà il sottotitolo. Ovvero, nel 2018, quando è uscito poi in sala e successivamente poi comunque anche in un video, ha fatto parecchio successo a livello di incasso, Animali Fantastici, i crimini di Grindelwald. Ovvero, portando poi come protagonista in realtà il nome del villain nel titolo e seguendo appunto la storia, il mistero, riguardo Credence, il personaggio interpretato da Ezra Miller. E a cui viene riferito proprio dallo stesso Grindelwald sul finire del secondo capitolo, che si tratta di Aurelius Silente, quindi che nel suo corpo scorre il sangue di una famiglia decisamente importante. E di cui noi conosciamo in realtà anche il destino, perché nei film di Harry Potter comunque avevamo già visto uno dei personaggi più importanti dell'intera saga, Albus Silente, di cui ci vengono poi raccontate le storie della sua famiglia, del fratello Aberfront, che in questo terzo capitolo risulta comunque essere un personaggio importante, nonostante anch'esso, come molti altri, ma adesso vedremo, non sia stato così tanto approfondito. E la sorella Rihanna. Sappiamo anche il destino di Grindelwald, perché comunque vediamo come si sviluppa il seguito, visto che questi animali fantastici, mi sono scordato di dirlo, ma penso lo sappiate se siete qui a vedere questa recensione, qualcosa che avviene molti anni prima rispetto a quanto vediamo invece nella saga di Harry Potter. I paragoni sono sicuramente alla base, sulla bocca di tutti, diciamo, perché quando si vuole proseguire il discorso, la magia, che ha fatto affezionare tantissimi al brand di Harry Potter, inizialmente quando viene proposto questo nuovo progetto di animali fantastici, di cui oltretutto non esiste una copia, un romanzo, non c'è una base in realtà da cui si prende spunto, prendendo e assicurando il posto di sceneggiatrice alla stessa J.K. Rowling, l'autrice dei libri, ma che comunque fa un lavoro, a parer mio, molto diverso da quanto si può intendere il lavoro di sceneggiatura, visto che magari in una cosa dei concetti devi farli sviluppare, devi descriverli in 90 minuti, mentre in un libro da 800 pagine magari c'è tutto lo spazio per poter dire tutto quello che vuoi. Sono due mezzi di comunicazione molto molto diversi, e secondo me è stato un handicap per la produzione di Animali Fantastici, come la stessa scelta di proseguire con un mestirante, David Yates, che all'interno della sua filmografia, mi pare che l'unico film che non faccia parte del Wizarding World, sia The Legend of Tarzan, che diciamocela tutta, non è che sia proprio questo gran bel film. Diciamo che alla saga di Harry Potter, a parer mio, che non è che sia cresciuto in realtà con il famoso mago, ho visto proprio da piccolo i primi due, mi stoppai al terzo e prosegui poi con l'intero rewatch in seguito, quando è poi nata in realtà la mia vera passione per il cinema, quindi era un po' più grande. Però devo ammettere che la saga in sé, quella di Harry Potter, è divisa proprio in due blocchi, ci sono i primi quattro, che sono relegati ad un mestirante, Mike Newell, e a dei veri e propri autori come Cuaron e Chris Columbus, che comunque hanno dato il loro tocco, la loro visione, mentre i quattro successivi, quelli affidati a David Yates, risultano molto più piatti, nonostante abbiano in sé tanti pregi comunque, che però devo ammettere sono stati anche costruiti, e quindi una conseguenza dei film precedenti. E comunque la saga in sé, arrivati poi al quinto, sesso, settimo, ottavo capitolo, oltretutto il settimo in realtà è diviso in due parti, vive anche del fatto che Harry Potter, il personaggio in sé, la storia in sé, tutto quello che accade, aveva già comunque una base molto grande, oltretutto c'erano anche i libri a dare ulteriori informazioni, quindi con Animali Fantastici è stato un discorso molto diverso, ma che non è stato secondo me sfruttato e strutturato a dovere, affidando in primis, come già detto, la regia, quindi a capo di un progetto, un regista che secondo me non riesce a dare quel ritmo giusto, quell'intensità giusta, quel pathos giusto, in secondo luogo ha affidato il progetto a una non sceneggiatrice, quindi qualcuno che non sa gestire, o meno, o meglio, non si è rivelata brava a gestire i tempi, appunto, di una sceneggiatura, quindi della narrazione di un film da grande schermo, ed infine anche un casting che, diciamo, non è a livello, secondo me, di quello visto in Harry Potter. Lo stesso Eddie Redman, secondo me è un attore un po' sopravvalutato, ma cerca di mettercela tutta davvero nel personaggio, ma in sé il personaggio non è stato scritto così bene, perché spesso finisce in secondo piano, spesso risulta quasi contraddittorio, spesso risulta come veramente quella pedina da poter posizionare dove si vuole e sempre aiutare i veri protagonisti, perché alla fine, come vediamo anche nel secondo, Credence, Albus Silente, Grindelwald sono i protagonisti di questa nuova saga. Newt Scamander funge quasi, non dico da comic relief, ma nelle ultime due pellicole sicuramente gli si avvicina molto, come lo stesso anche personaggio di Jacob, per dirne un altro. Ma concentriamoci un attimo su Animali Fantastici 3, ho fatto un mini preambolo su tutta la saga perché non l'avevo mai portata comunque sul canale e volevo dire la mia. Oltretutto trovate anche delle live apposite dove abbiamo parlato di Harry Potter Animali Fantastici 1 e 2 su Quarta Parete e sempre su Quarta Parete mercoledì prossimo, mi pare, ci sarà poi la live su questo film, su Animali Fantastici, I segreti di Silente, il quale ci racconta appunto di Newt Scamander che è alle prese con la ricerca di questo esemplare di Silene, il quale sta partorendo e sulle sue tracce però si ritrova Credence e i seguaci di Grindelwald che catturano questo cucciolo di Silene per portarlo appunto a Grindelwald, anche perché si tratta di una creatura magica capace di vedere frammenti del futuro e sfruttare l'anima di chi lo possiede. Credence e i suoi seguaci, i seguaci di Grindelwald, uccidono la madre subito dopo il parto, ma fortunatamente, all'ora insaputa, ormai andati via, Newt scopre che in realtà è stato un parto gemellare, quindi c'è un altro cucciolo di Silene. La storia poi prosegue e ci mostra come, come abbiamo già visto anche nel secondo capitolo, i due veri protagonisti della pellicola, Grindelwald da un lato e Silente dall'altro, non possono scontrarsi e vediamo l'avanzare della forza, della convinzione di Gellert Grindelwald che, oltretutto, non possiamo non citare il recasting effettuato dopo Johnny Depp e il personaggio è passato appunto a Matt Michelson, che, lo diciamo subito e così apro e chiudo una parentesi, è stato molto bravo secondo me a interpretare il personaggio, ma evidentemente almeno per quanto riguarda me avrei preferito invece Johnny Depp nel ruolo, anche se era una versione molto diversa, non ci viene giustificato in realtà il cambio, ma secondo me non ce n'era bisogno perché conoscono tutti i motivi per il quale Johnny Depp non ha potuto proseguire nell'interpretazione di questo ruolo e Matt Michelson in realtà se l'è cavata molto bene. Anzi, forse ci fosse stato lui all'inizio, non avessimo tutti avuto magari quel Johnny Depp già sul fine del primo e all'interno del secondo, secondo me non sarebbe stato neanche affatto male, visto che comunque è un grandissimo attore, proprio come Johnny Depp in realtà, anche se ha avuto una carriera un po' più sul calante ultimamente. Detto questo, Grindelwald e Silente non possono combattere, come sapete, per un patto di sangue e quindi c'è questa sfida, diciamo in lontananza, visto che Silente guida una squadra formata da Newt Scamander, interpretato come al solito da un Eddie Redmayne in ruolo, in parte, ma che quasi non serva, no, non servire perché ha un suo ruolo, almeno in questo film. Però sembra sempre messo troppo in disparte, alla fine in realtà il protagonista teoricamente dovrebbe essere proprio lui. Poi all'interno della squadra ci sono anche Teseus Scamander, che è il fratello appunto di Newt, che faceva parte del Ministero della Magia, ma ci sono anche Yusuf Kana, che avevamo già visto, il fratellasto di Little Strange, che avevamo visto appunto nel secondo capitolo, una nuova strega di nome Lally, che forse è uno dei personaggi che in realtà mi è piaciuto di più all'interno di questo terzo capitolo, la tenera Banti, che dovrebbe essere l'assistente di Newt Scamander, e infine il personaggio, forse il vero comic relief di tutte le tre pellicole, ovvero il babbano, il nomag Jacob, il quale si ritrova appunto, come abbiamo visto anche nel trailer, a ricevere addirittura una bacchetta da Silente. È una squadra un po' sgangherata che deve fare di tutto per riuscire a fermare Gellert, Grindelwald e i suoi seguaci, che tentano in tutti i modi di far cominciare questa guerra tra maghi e babbani. Vi avviso adesso che ci sarà qualche spoiler, così posso parlarne anche in maniera un po' più libera, e sicuramente, visto che ormai è uscito da due giorni qua in Italia, secondo me, bene o male, tutti l'avete comunque già visto, e sapete già di che cosa si parla. Quindi, vediamo appunto Grindelwald, che riesce a traviare e riesce a portare dalla sua molti altri maghi, e difatti passa dall'essere ricercato ad essere possibile candidato addirittura della presidenza del regno magico, e questo fatto lo trovo abbastanza già incoerente. L'incoerenza sicuramente è una parola che descrive bene la realizzazione di questo terzo capitolo, che oltretutto raggiunge, secondo me, il suo apice di incoerenza, quando addirittura gli stessi personaggi, lo stesso silente, afferma che è il miglior piano, e non avere nessun tipo di piano, e quindi mettere in scena una confusione tale, che secondo me è una gran paraculata, perché oltretutto rende tutto più confuso, rende molti aspetti magari poco approfonditi, molti aspetti buttati lì a caso, proprio cercando di salvare il salvabile all'interno di questo film, perché tutto ciò che è venuto sbagliato nel primo, tutto ciò che è venuto sbagliato nel secondo, cerca di essere rimediato con qualche pezza qua e là in questo terzo capitolo. Gli animali fantastici praticamente sono quasi spariti, è vero, c'è quello principale che è questo silin, che però viene veramente utilizzato quasi come se fosse un oggetto in realtà, visto che anche sul finale quando viene riportato in vita da Gellert Grindelwald è utilizzato per potersi ergere e quindi vincere le elezioni, alla fine come presenza scenica non ne ha. È vero, abbiamo la scenetta solita, comica, che vorrebbe strapparci una risata, che sì, succede, infatti forse la parte più interessante del film è quella in cui vediamo il povero Newt che deve salvare il suo fratello Teseus all'interno di questa prigione particolare con queste sorte di granchi scorpioni e quindi mette in scena questa danza particolare che sì, strappa un sorriso, ma all'interno del film non serve assolutamente niente. Se non, per mostrarci ancora una volta magari lo snaso e lo stesso Pickett che fanno cose comunque. E sicuramente avrei preferito due ore di film su Newt che fa quello e sui due personaggi, le creature magiche, piuttosto che vedere due ore e venti di questo animali fantastici, i segreti di Silente. Contra tutto, segreti. In realtà è uno solo, perché arriviamo al succo del discorso. Il segreto è legato al personaggio di Credence che in realtà ha quanto pare questo Aurelius Silente. Un fratello, un cugino, un lontano parente? In realtà non si sa fino a quando lo stesso Silente non rivela che in realtà è il figlio di Aberfront Silente, il fratello, quello che gestisce questa locanda e che in realtà abbiamo visto in minima parte nella saga di Harry Potter. Non ero uno dei personaggi principali, diciamo. Poi io non sono espertissimo. Li ho visti tante volte, ma non ho conoscenza dei libri, quindi sicuramente nei libri è stato molto più approfondito come personaggio, si sa molto di più. E se siete fan della saga lo conoscete sicuramente meglio di me. Una cosa secondo me, non so, buttata un po' lì a caso, i collegamenti secondo me non ci sono le basi. A livello almeno cinematografico, io ho valuto quello che ho visto sul grande o piccolo schermo in base a come li ho recuperati i film, sia di questa saga di Animali Fantastici, sia di Harry Potter. E quindi una trama davvero sconclusionata, molto confusa, ci sono veramente tanti elementi che non tornano a livello di effetti speciali. Comunque non è che mi aspettassi chissà che, voglio dire, siamo nel 2022, sbagliare adesso ancora la CGI, nonostante molti film la sbaglino ancora, è molto difficile. Quindi non è che mi abbia fatto chissà che impazzire, ma non è neanche così brutta e fatta male. Gli unici aspetti positivi sono sicuramente l'interpretazione di Jude Law, un grande attore che ci porta un silente, secondo me, ottimo in realtà. E viene anche un po' più approfondita, alla fine, Animali Fantastici, a differenza del lavoro di crescita, del discorso dell'amicizia che c'è in Harry Potter, ci dà delle versioni più adulte, e quindi dei temi più adulti anche, e l'omosessualità è un tema che comunque viene portato all'interno di questo film, è come lo stesso tema del razzismo. Il problema è che c'è poca originalità, c'è poca convinzione da parte di personaggi e storia di voler dare quel qualcosa in più che faccia avvicinare i fan, e questi film davvero si vede che sono creati uno per volta, quindi non con un'idea di franchise, ma davvero affrontati, facciamo queste cose qui per questo primo capitolo. Finito quello, ci mettiamo a lavoro sull'altro. Che cosa è successo nel primo capitolo? Ah, dobbiamo risolvere questo, questo e questa. Cioè, non si ragiona così. L'MCU ci ha dimostrato che, e Kevin Feige ci hanno dimostrato, che bisogna avere un progetto ben più solido alle spalle, se si vuole lavorare sulla serialità cinematografica. E non è quello che accade in Animali Fantastici 1, 2, 3, perché sono davvero troppo scollegati uno tra l'altro. In uno sembra che parte sia la storia di New Scamander che ricerca queste creature magiche. Eh, datemi quella storia lì. Io volevo vedere quella storia lì. Poi ci viene però proposto il fatto che ci deve essere comunque un cattivo, un villain da odiare, da disprezzare, da andarci contro, che è Gellert Grindelwald. Hanno deciso di puntare sul più grande mago, dopo Voldemort, del lato oscuro, diciamo. E quindi hanno puntato su di lui, però rendendo protagonista a volte Credence, poi la storia di Silente, questi segreti che alla fine poi è solo uno, e hanno spostato l'attenzione dello spettatore prima da una parte, poi dall'altra, poi non si sa, poi si torna indietro. E questo crea davvero troppa, troppa confusione. Per un progetto in generale troppo confusionario. Davvero, io il cinema non vedevo l'ora che finisse questa quasi agonia. Mi ha lasciato anche un'indifferenza tale che davvero è anche difficile parlarvene più nel dettaglio. Il personaggio di Jacob, ad esempio, quando comunque, sappiatelo, cioè, sicuramente l'avete visto, meno male che la sua bacchetta in realtà non era vera, perché non avrebbe avuto nessun senso dargli come l'hanno portato nel trailer, che è una sorta non di scam, come quella successa con Morbius, ma sicuramente un gioco, uno scherzo. Però anche lui all'interno di questa narrazione, la sua relazione con Queenie, che era una delle cose più interessanti invece da vedere in Animali Fantastici, dove trovarli. Quel film lì, secondo me, non ha raggiunto il successo proprio per quello che è stato effettuato dopo, per quello che hanno creato dopo, perché aveva tantissimi spunti molto interessanti, molto interessanti, e non sono stati sviluppati per niente. Per non parlare poi del personaggio di Tina, che è vero che forse l'attrice, comunque, ha avuto il Covid durante le riprese, hanno dovuto magari fare qualche taglio, qualcosa, hanno dovuto fare dei reshoot, è vero, c'è stata anche la pandemia di mezzo, ovviamente, però qualcosa di meglio doveva pur arrivare sullo schermo. Gli attori, comunque, Mad Michael, e Jude Law, lo stesso Eddie Redman, comunque un premio Oscar, Ezra Miller, che io, per esempio, ritengo molto, molto sopravvalutato, però ci sono. Gli elementi di lei tutti, la base, se è il terzo capitolo, comunque le basi, devi averle, devi, devi averle. Il film proprio oggi uscirà negli Stati Uniti e vedremo come sarà anche la presa sul pubblico lì, a livello di critica, sì, pareri positivi, ma fino a un certo punto, non c'è nessuno che, naturalmente, urla al capolavoro, a chissà che ripresa di una saga, che, però, non ha quasi nulla da dare, perché, alla fine di un terzo capitolo, in realtà, con questa sorta di sconfitta, di Grindelwald, che, naturalmente, riesce a scappare, perché devono pur tirare avanti il brodo fino al quinto capitolo, se hanno in programma di farne cinque, però, trovo che, davvero, abbiano voluto allungare il brodo, allungare la storia, pur di far incontrare questi Silente Grindelwald, che si scontrano, in realtà, interessante anche, ecco, lo scontro, che si vede in questo Animali Fantastici 3, un grande altro peccato, e quindi, che aumenta la delusione di fronte a questo film, perché, poteva dare molto, molto di più, sono tre film che potevano davvero dare di più, ed è un gran peccato, perché i soldi, la Warner li ha, le idee in realtà ci sono anche, ma non vengono poi sviluppate, perché evidentemente affidate a persone, personaggi, che non riescono a dare quel qualcosa in più, alle basi che già ci sono, in realtà, David Hayes è troppo un mestierante, bisogna scegliere un autore, J.K. Rowling è una scrittrice, è una grande scrittrice, ma non è una sceneggiatrice, datelo in mano a qualcuno che sappia scrivere per il cinema, che sono due mestieri completamente diversi, uno può essere poliedrico, quanto vuoi, ma se fa, è bravissimo in un lavoro, non è detto che lo sia anche in un altro, anche se la base più o meno è la stessa, perché si parla di scrittura, però la scrittura di un libro, come vi ho già detto in precedenza, e come sapete sicuramente, non è la stessa cosa che scrivere un film, come non è la stessa cosa che scrivere un pezzo, un'opera teatrale, come non è la stessa cosa scrivere un libro per ragazzi, sono cose completamente diverse, ed è un gran peccato, perché deludi una fanbase enorme, enorme, difficile che davvero qualcuno esca dalla sala, e dica davvero stupendo, io quando sono andato nel primo pomeriggio, al primo spettacolo di mercoledì 13, devo ammettere che non è che ci fosse la stessa fila fuori, quando sono andato invece a vedere nello stesso orario, con il primo spettacolo di mercoledì, sempre a vedere No Way Home, non c'era la stessa folla, proprio perché dopo il secondo capitolo, sicuramente l'entusiasmo è calato vistosamente, è un gran peccato, perché questo Animali Fantastici 3 poteva dare di più, le basi c'erano, mi ripeto, e quindi insomma, Animali Fantastici segreti di Silente, è una grande illusione, non mi è piaciuto, è in linea con quanto visto con I crimini di Grindelwald, un altro film sicuramente sbagliato, peccato per il primo, che invece era davvero caruccio, vediamo che cosa succederà, sicuramente incasserà, ma sicuramente faranno il prossimo capitolo, vediamo anche cosa succederà, Ezra Miller, che ha avuto delle beghe legali, è stato arrestato mi pare, adesso non so come sia finita la questione, ma questa saga davvero di sfortuna, a livello di cast, a livello di situazioni, ne ha parecchie, in più si è messo di mezzo anche la pandemia, che ha dovuto stoppare tutto quanto, e quindi vedremo che cosa ci riserverà il futuro, intorno a questa saga. Detto questo, vi ricordo che se il video è piaciuto, ti lascia un like e condivido sui vostri, i vari social, non mi trovo solamente qua, su YouTube, ma anche su Facebook, tutti i link qua sotto in descrizione, di questo film trovate la recensione su Quarta Parete, ma non mia, ma del mio collega e preparatissimo, Giovanni Urgnani, che la porterà invece, mi pare, domenica se non sbaglio, e l'aggiungerò poi qua nel link qua sotto, troverete già la scritta, ma il link arriverà più avanti, spero che questo video esca venerdì, e se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, e attivate la campagna di prima, sempre aggiornati sui nuovi video, e noi, naturalmente, ci vediamo ad una prossima recensione. Ciao! Ciao!